Sono due videogiocatori esperti. Occhio Michele, cecchino al terzo piano. Ti ripeto che non vedo nessun cecch... Ma nella real life, cioè nella vita, voglio dire. Ma perché non è come nei videogiochi? Sono parecchio nabbi. Piacere Matteo. Piacere Michele, ma puoi chiamarmi Mad Mike. Qualcosa sta per cambiare la loro life. Vedi, tu sei uno sfigato e gli sfigati vanno pestati. Per io, cioè per davvero. Lo sai cosa mi è successo oggi? Credi che se un gioco fosse così irreale da sembrare la vita vera, tu potresti giocarci? Un nuovo gioco. Iniziamo la prossima missione. Sì, sì, prontissimo, dai. Una nuova sfida. Io però ti ricordo che mi sto pisciando addosso. Per giocare al mio gioco, non serve nessun game. Giocoterapia. Dal 2017, nei cinema. Nah dai, non vi preoccupate, esce il 12, il 12 marzo. Per 5 settimane, ogni sabato. Cioè tipo, ogni sabato. Come piace a voi. Tango davanti a me. Ma che fa? Ma poi finisce. Mi raccomando, se il progetto ti interessa, supportaci iscrivendoti al canale e attivando i feed.